Allora ragazzi, benvenuti a questo breve corso di programmazione informatica e di quali sono i concetti che sovrintendono a tale attività così importante nel mondo attuale. Questo corso è in realtà rivolto a tutti, nel senso che con le seconde già avevamo cominciato a lavorare su questo e quindi potranno proseguire chiarendo meglio alcuni concetti leggendo queste slide. È rivolto sicuramente alle prime che potrebbero avere qualche difficoltà ma sono a disposizione per aiutarli nell'eventuale comprensione dei passaggi che dovranno eseguire poi autonomamente a casa ed è adatto anche alle terze, con le quali già l'anno scorso avevamo fatto alcune cose di programmazione e che possono proseguire da dove avevano lasciato e forse organizzare meglio il discorso in modo più strutturato grazie a queste indicazioni che sto per darvi. Allora, quando noi parliamo di programmazione, di coding, non parliamo di un'attività legata necessariamente all'uso dei computer ma parliamo in realtà di una disciplina che attiene al mondo della logica matematica. Quindi come tale il coding, cioè il lavoro procedurale che sovrintende alla programmazione è un lavoro che si potrebbe anche fare senza utilizzo di un computer perché altro non è che un'attività nella quale cerchiamo di elencare una serie di operazioni elementari messe in un ordine corretto tali per cui si riesca a pervenire alla soluzione di un problema quale che sia un problema di carattere matematico ma anche un problema più banale della quotidianità di ciascuno di noi. Per poter fare programmazione, per riuscire a iniziare questa disciplina e introdursi a questa disciplina è necessario verificare alcuni passaggi fondamentali. Il primo fondamentale è l'analisi del problema. Noi non possiamo fare programmazione informatica e in generale qualunque tipo di programmazione se non abbiamo chiaro in testa qual è il problema che ci prefiggiamo di risolvere. La definizione del problema ha in sé le condizioni per la sua soluzione. Se io non ho chiaro in testa il problema non potrò trovare la sua soluzione. La stessa cosa vale in realtà per tanti ambiti disciplinari. Pensate per esempio a un compito di matematica o un compito di geometria se non mi è perfettamente chiaro in testa qual è la richiesta di questo compito cos'è ciò che si richiede di risolvere è pressoché inutile approcciarsi al problema perché non saprò individuare quali sono i passaggi fondamentali che devo definire per riuscire ad arrivare alla soluzione del problema. Una volta che io ho definito il problema passerò all'algoritmo che qui enuncio soltanto perché dopo spiegheremo meglio. Poi abbiamo lo pseudocodice che è un ulteriore passaggio che qui non affronteremo se non enunciandolo e basta. L'implementazione, ossia la fase vera e propria di programmazione cioè quello che voi farete poi nelle esercitazioni che seguiranno a queste lezioni e poi una serie di operazioni che hanno a che fare con l'esecuzione del programma la verifica del suo funzionamento il suo test diciamo successivo Per poter definire un problema è necessario come abbiamo detto avere da una parte un obiettivo chiaro cioè sapere dove vogliamo arrivare ma dall'altra anche sapere quali sono i dati di cui noi disponiamo e anche questo ci viene comodo fare un confronto con un compito di geometria se il professore, la professoressa ci chiede calcola il volume di un cubo e il professore non ci dà il lato di questo cubo sarà pressoché impossibile arrivare diciamo alla soluzione perché non mi sono stati forniti i dati necessari per la soluzione del problema in generale un problema può essere risolto diciamo tramite un'attività di programmazione purché esso sia risolvibile in forma logica matematica cioè io posso risolvere problemi che possano essere enunciati in una forma e utilizzando un linguaggio di tipo matematico non posso risolvere problemi di altro tipo quindi più sfumati che hanno a che fare, che ne so, con i sentimenti con le emozioni con argomenti che appartengono e sono importanti quanto quelli di cui stiamo parlando nella vita quotidiana ma non possono essere ridotti o semplificati in una forma di tipo logica matematica facciamo un classico esempio l'esempio più classico e banale di questo per spiegare il processo di programmazione il mio problema è cuocermi un piatto di pasta perché? perché ho fame allora io devo fare tutte le operazioni che mi porteranno a questo compito cioè a questo scopo ottenere appunto il mio piatto di pasta caldo, bollente, da condire poi successivamente ora il primo passo quindi è individuare in maniera quasi maniacale quali sono tutte le operazioni necessarie perché io possa pervenire a questo risultato cioè io non mi posso limitare a dire che voglio un piatto di pasta ma devo essere in grado di enunciare cioè di dare un nome a tutti quanti i passaggi che io devo attraversare per arrivare a questo risultato non solo ma devo essere anche in grado di metterli nel giusto ordine perché se li metterò nell'ordine sbagliato non sarò in grado di arrivare a un risultato efficiente ed efficace come mi prefiggevo di avere quindi per fare la pasta dovrò prima di tutto mettere l'acqua nella pentola poi dovrò accendere il fornello poi mettere la pentola sul fuoco quando l'acqua bolla aggiungere il sale buttare la pasta aspettare dieci minuti spegnere il fornello scolare la pasta ora queste operazioni come vedete il tentativo è stato quello di enunciarli come operazioni non più semplificabili di come sono state espresse quindi non c'è nulla di più semplice dell'operazione che abbiamo detto mettere l'acqua nella pentola ovviamente qui è una semplificazione a scopi didattici ma il concetto è che io devo riuscire ad elencare tutte le fasi tutti i passaggi che io devo seguire per poter arrivare a questo risultato quindi prima di tutto la semplificazione delle operazioni e poi il giusto ordine di queste operazioni perché se io già per esempio mettessi il punto buttare la pasta subito dopo a mettere l'acqua nella pentola le operazioni sarebbero le stesse di prima ma dal momento che l'ordine non è più quello corretto l'operazione complessiva cioè scolare la pasta e ottenere un piatto di pasta non avrebbe lo stesso successo non avrebbe lo stesso risultato che avrei avuto se avessi buttato la pasta quando era il momento giusto quindi operazioni semplificate nel giusto ordine come vedete quindi il problema è stato diviso in una sequenza di sottoproblemi più piccoli quindi ciascuno risolvibile di per sé secondo un processo logico-matematico la soluzione di tutti i sottoproblemi implica che la soluzione del problema principale è la soluzione del problema principale cioè se io riesco a risolvere ciascuno di quelli più semplificati elencati sarò di conseguenza stato in grado di risolvere il problema generale va bene tutto questo che abbiamo spiegato applicandolo al semplice banale processo dell'ottenimento di un piatto di pasta è in fondo altro non è che l'esemplificazione di che cos'è un algoritmo un algoritmo quindi andiamo all'enunciato preciso è una procedura logico-matematica che attraverso un numero finito di passi elementari quindi devono esserci una serie di operazioni finito quindi non infinito devono essere un certo numero e soltanto quelli chiari e non ambigui cioè che la macchina, il computer o chi deve eseguirli non possa equivocarli non possa fraintenderli perviene alla risoluzione di un problema un algoritmo è sempre composto da tre elementi fondamentali i dati di input i dati di elaborazione cioè quali sono le operazioni che devo fare i dati di output inoltre ogni algoritmo è efficace purché qualunque sia il dato che io introduco sia in grado di darmi la soluzione del problema per il quale l'avevo elaborato quindi non deve trovare una soluzione soltanto per alcuni valori ma deve trovare una soluzione al problema per qualunque valore che sia inserito all'interno dell'algoritmo i dati di input sono i dati di ingresso cioè per esempio i numeri che io digito come utente sulla tastiera di un computer i dati di elaborazione sono i dati temporanei che l'algoritmo elabora per poter arrivare al risultato che gli ho chiesto e i dati di output sono i dati in uscita cioè il risultato di quell'operazione che io gli avevo chiesto mediante algoritmo un algoritmo viene solitamente rappresentato in un diagramma di flusso ad esempio guardiamo questo questo semplice diagramma questo è un diagramma come vedete a blocchi dell'algoritmo della divisione cioè questo diagramma rappresenta qualunque tipo di divisione ed è valido ed ecco perché è un algoritmo per qualunque valore che io introduca in questa semplice divisione vediamo come lo si legge l'algoritmo inizia la prima cosa che fa è leggere i dati di questa divisione cioè quali sono i due numeri che dovranno essere posti in divisione tra di loro il numero A e il numero B quindi numeri generici non numeri esatti non numeri specifici ma non numeri generici qualunque, infiniti dopodiché deve mettere una condizione che è una condizione di tipo matematica che sicuramente conoscete una divisione è valida soltanto se non è divisa per zero perché se io faccio un'operazione divisa per zero l'operazione è impossibile quindi io non posso procedere poi con il mio algoritmo quindi io devo mettere una condizione che dice se B è uguale a zero quindi vero è vero che B è uguale a zero allora mi restituirai nell'operazione e dove me lo restituisce solitamente lo vedo sullo schermo del computer oppure solo sul file che io ho stampato e così via mi restituirà come informazione della mia semplice divisione nella quale avevo A e avevo B che l'operazione è impossibile perché io non posso dividere un qualsiasi infinito numero di A per zero perché il risultato è impossibile invece qualunque altra condizione di A e di B con B diverso da zero mi restituirà un valore D che è il risultato della mia divisione per esempio se io introduco a tastiera 4 e introduco a tastiera 2 allora 4 diviso 2 sarà 2 ok? e il risultato sarà il nostro D dov'è che lo vedo? lo vedo a schermo di nuovo ho scritto su un file e quindi l'operazione si completa dicendo scrivi D l'algoritmo è finito come vedete un'operazione è banalissima ma perché è così efficace? è efficace perché non è valida per una sola coppia di valori ma è valida per qualunque coppia di valori che vengano posti in divisione tra di loro e quindi assorge al valore di algoritmo quindi può essere utilizzato da una macchina per qualsiasi dato di ingresso per qualsiasi dato di input che gli venga fornito per la sua elaborazione un diagramma di flusso che è il modo consueto con il quale si rappresentano gli algoritmi come avete visto è composto da una serie di box di rettangoli la cui forma non il colore che è secondario ma la cui forma è fondamentale per comprendere qual è la funzione che all'interno dell'algoritmo ha quella operazione quel comando logico che abbiamo introdotto all'interno della sequenza come vedete i rettangoli hanno diciamo vengono rappresentati con questi bordi smussati quando vogliamo identificare l'inizio e la fine di un algoritmo oppure si utilizzano dei rettangoli con i bordi con gli angoli squadrati invece per indicare tutte quante le azioni che vengono svolte all'interno le azioni concrete le azioni reali che vengono svolte all'interno dell'algoritmo dopodiché poi ci sono dei blocchi di controllo e di verifica quindi blocchi che possono definire delle condizioni o delle specificità che devono essere in qualche maniera evidenziate perché portano a una diramazione del flusso su due strade differenti che fondamentalmente individuano due funzioni logiche fondamentali come il vero e falso quindi in questo caso vedete che viene utilizzato questa figura a rombo per indicare fondamentalmente se i dati forniti dicono una cosa allora prendi una strada se ne dicono un'altra prendi un'altra strada questo perché ovviamente ci sono mille momenti all'interno dell'algoritmo che prevedono diciamo una biforcazione delle possibilità i blocchi che vengono rappresentati con questa forma di parallelogramma invece restituiscono diciamo le informazioni di lettura e di scrittura cioè o i dati che io ho inserito quindi letti dal sistema nella fase di calcolo oppure di riscrittura dei risultati successivamente dopo l'operazione tutto quanto questo è legato da una serie di frecce che indicano ovviamente il flusso per l'appunto delle operazioni quindi individuano in che modo devono essere lette le operazioni da noi che guardiamo il diagramma e dalla macchina che le deve elaborare e poi a volte ci sono delle istrazioni di salto cioè un determinato percorso un po' come nei labirinti quando si giocava con da bambini con il coniglio che doveva raggiungere la carota a volte c'era un'istruzione di salto cioè un trabocchetto un punto all'interno del nostro labirinto oppure che ne so anche nel gioco dell'oca un punto nel nostro labirinto che invece di farci proseguire lungo la linea di flusso ci costringe a tornare indietro di un determinato passaggio per riverificare l'algoritmo e farci magari prendere una direzione differente una volta che abbiamo definito l'algoritmo esso viene trasformato in uno pseudocodice ora come dice la parola un pseudocodice è un codice non proprio codice quindi un codice di programmazione che ancora non ha una formulazione adatta alla macchina cioè al computer quindi non è ancora interpretabile perfettamente dal linguaggio dal computer che deve eseguire l'algoritmo quindi come c'è scritto nella slide dice un linguaggio a metà tra il linguaggio di programmazione e il linguaggio naturale e infatti la sua lettura è sintetizzata in una stringa così si chiamano diciamo queste singole linee che vedete che presto diventeranno codice informatico propriamente detto ma è di facile lettura in questo caso è un banalissimo algoritmo che rappresenta tutte le condizioni di somma cioè noi abbiamo due valori di input e li vogliamo sommare insieme e ottenerne il risultato allora la macchina gli dirò input A input B somma A più B visualizza somma sullo schermo quindi è come vedete un ibrido un linguaggio ibrido che ovviamente non può essere ancora utilizzato dal computer il computer si interviene dopo l'algoritmo scusate la programmazione quella che vi viene chiesto adesso di affrontare in questo breve percorso di studio diciamo a livello esclusivamente didattico ma sicuramente utile per il futuro si colloca come vedete dopo l'elaborazione dell'algoritmo quindi l'algoritmo è un concetto direi matematico scientifico logico quindi un qualche cosa che deve funzionare a prescindere dal computer la programmazione è la fase nella quale noi scriviamo letteralmente usando un linguaggio appropriato l'equivalente dell'algoritmo in modo tale che il computer sia in grado di poterlo elaborare quindi dalla programmazione ne discenderà un programma quello che noi normalmente chiamiamo software e software ovviamente poi si legherà a quei dati di input che noi diamo al programma perché possa eseguire non tutte le possibili operazioni che l'algoritmo era per come era congeniato in grado di calcolare ma quelle che interessano a noi cioè con i dati che interessano a noi perché il programma adesso è nelle nostre mani e vogliamo ottenere i risultati che servono a noi quindi il programma cioè il software ormai costruito grazie a un linguaggio di programmazione informatica appropriato unito insieme ai dati che io fornisco al programma passerà attraverso una fase di elaborazione e mi restituirà il risultato che io desideravo questo risultato richiede una verifica una verifica di funzionamento cioè l'attività di coding essendo un'attività complessa anche ripetitiva molto esposta anche al rischio di errore richiede una fase di verifica io dovrò controllare l'effettivo funzionamento di tutti i passaggi che io ho ipotizzato all'interno sia dell'algoritmo che del programma e nel loro susseguirsi e se la verifica mi restituirà il risultato che effettivamente mi aspettavo allora ecco che ho questo ok che rappresenta ok il programma funziona se invece mi restituisce un errore quello che nel linguaggio chiomune chiamiamo bug cioè un errore di programmazione un errore di scrittura del programma che abbiamo dato al computer che lo elaborasse allora nella fase di verifica abbiamo restituito un dato sbagliato un errore di qualche tipo che tra l'altro in certi casi è molto complicato riuscire a individuare ma è proprio perché è complicato individuarlo è necessario fare un salto indietro tornare alla fase del problema oppure alla fase dell'algoritmo dipende da dove è intervenuto l'errore e ricominciare con una una rilettura una ricrittura dei codici sbagliati affinché in fase di verifica il risultato questa volta sia esatto i linguaggi che si utilizzano normalmente nella programmazione informatica sono i più vari e costituiscono linguaggi differenti molto differenti gli uni dagli altri come se un programmatore fosse chiamato a conoscere veramente molte lingue differenti e infatti questo porta con sé che molto spesso i programmatori si specializzano su determinati linguaggi sono in grado di fare programmazione utilizzando quello e non un altro esattamente come nelle lingue parlate è molto probabile che oltre alla nostra lingua madre conosciamo che ne so l'inglese o un'altra lingua diciamo normalmente l'inglese magari ne abbiamo una seconda voi per esempio fate inglese spagnolo oppure inglese e francese e qui ci fermiamo molte altre persone poi sviluppano delle competenze ulteriori e riescono ad avere anche la conoscenza di 5, 6, 7, 8 lingue certamente questo è possibile ma conoscere un linguaggio informatico implica conoscere la grammatica la sintassi e tutti gli aspetti connessi diciamo a una lingua vera e propria e quindi implica uno studio approfondito che porta con sé che non tutti i linguaggi informatici possano essere conosciuti da tutti quanti i programmatori quindi i programmatori solitamente si specializzano quindi conoscono bene python conoscono visual basic conoscono php html un tempo vecchissimo e ancora altri e molti altri e molti altri ne devono essere ancora inventati e che saranno probabilmente quelli che imparerete voi se farete queste professioni per imparare a fare un po' di programmazione comprendere quindi da una parte l'approccio logico-matematico quindi l'algoritmo che cos'è e che cosa vuole dire formularlo e dall'altra provare anche a scrivere del codice affinché il computer esegua qualcosa che noi desideriamo noi useremo ovviamente un ambiente di programmazione didattico semplificato ma semplificato sì ma rigoroso dal punto di vista diciamo informatico perché noi usiamo questo programma che è derivato da scratch che è un sistema un ambiente di programmazione elaborato all'MIT già diversi anni fa ma è un linguaggio di tipo grafico che noi chiamiamo linguaggio a blocchi e che molti di voi sono sicuro già conoscono perché o l'hanno fatto con me o l'hanno scoperto in corsi diciamo di informatica esterni alla scuola grazie all'utilizzo di questi ambiente questo ambiente di programmazione voi toccherete con mano sperimentando e anche giocando alcuni aspetti fondamentali della programmazione quindi imparerete che cosa vuol dire creare un algoritmo scoprirete quindi che non c'è una sola strada per fare una cosa magari ce n'è una più efficace una meno efficace una più efficiente una meno efficiente arriverete molto probabilmente spesso per strade diverse allo stesso obiettivo ma scoprirete che le strade più efficienti sono per l'appunto quelle più rapide quelle che implicano il minor numero di istruzioni quelle che non obbligano noi a scrivere il computer a eseguire delle operazioni inutili perché potevano essere ulteriormente semplificate se aveste elaborato meglio il vostro algoritmo quindi imparerete l'algoritmo poi imparerete quali sono le operazioni e le funzioni fondamentali di programmazione sono diverse ma qui è inutile dilungarsi è meglio giocare e scoprirle via via facendole quindi sequenze cicli funzioni istruzioni condizionali e così via e poi ovviamente sperimenterete sempre con la stessa modalità che cosa significa cercare l'errore della vostra della vostra programmazione cioè cercare il bug capire non solo che un programma non funziona come tutti noi quotidianamente sperimentiamo ma capire perché non funziona dove sta l'errore nel codice dove c'è qualcosa di scritto scovarlo e quindi poi anche correggere allora l'attività la vediamo la prossima volta vi darò una lezione fondamentalmente un ciclo di lezioni per l'esattezza adatto alla vostra età tratte da code.org molte delle quali alcune classi le hanno già affrontate quindi chi ha già iniziato proseguirà da dove aveva lasciato altri invece che devono iniziare da zero seguiranno esattamente il corso così come molto chiaramente proposto nelle pagine internet che vi proporrò e poi mi direte che cosa ne pensate vi abbraccio e a presto è che cosa ne pensate è che cosa ne pensate